è una decisione che ho preso io dopo tanti anni tra qualche mese allo 67 anni non voglio più andare sul campo a fare allenamenti andare in panchina e farò il capo degli allenatori diciamo così però non andrò in panchina e non andrò sul campo ad allenare e al posto mio ci sarà un altro e tutto lo staff che c'è rimangono tutti